Fanno una mostra internazionale Internazionale di San Bernardo Dall'Ameria dei Bocchi 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 800 grammi al giorno 8,9,9 8,9,9 8,9,9 E lei 300 grammi al giorno 18 mesi, 19 Cucciolone E' il più piccolo di che? Fino a 3 anni cresce Perciò Ora c'ha Ora c'è Ora c'è Il pelo E' la pava 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 I' la pava E' la pava E' la pava Cia Ok, il ca'è è stato l'ultimo ha detto, io me l'ho spiegato eh amore è un po' più grosso che laterale è un po' più grosso Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.